Dire che il lavoro lo danno le imprese non è uno slogan. Dire che abbiamo abolito la povertà purtroppo lo è stato. La dignità la dà il lavoro, non l'assistenzialismo. Noi vogliamo che se un'impresa dà fino a 200 euro di aumento al mese al proprio dipendente, questo aumento gli costi zero. Noi vogliamo semplificare gli adempimenti burocratici e amministrativi per le imprese. La burocrazia costa ogni anno alle imprese italiane 57 miliardi di euro. Noi vogliamo realizzare un intervento di pace fiscale per i contribuenti in stato di necessità. Noi vogliamo modificare il reddito di cittadinanza. Oggi costa 8 miliardi di euro l'anno. Vogliamo che 3 miliardi di questi 8 siano destinati effettivamente a chi non ha lavoro e gli altri 5 miliardi darli alle imprese perché possano reinserire nel mondo del lavoro chi oggi un lavoro non ce l'ha. Questo siamo noi, competenti, concreti, responsabili, affidabili. Il 25 settembre vota noi moderati, i moderati del centrodestra.